Un dirigente medico e due infermieri, tutti dipendenti dell'azienda ospedaliera universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro e un imprenditore cosentino operante nel settore medicale, sono stati accusati di associazione per delinquere finalizzata al peculato e alla truffa ai danni dello Stato e di autoriciclaggio. In particolare, le fiamme gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri hanno eseguito la misura interditiva della sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi per i primi tre e quella del divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale per l'altro indagato in quanto il medico avrebbe omesso di versare all'azienda ospedaliera parte dei compensi e ritratti dallo svolgimento di attività professionale in regime di entramene allargata quelli relativi alle visite mediche svolte presso il proprio studio privato per conto dell'azienda ospedaliera. Inoltre, con la collaborazione dei due infermieri e servizio presso l'unità operativa di oculistica avrebbe eseguito interventi chirurgici privatamente pur in assenza di specifica autorizzazione sanitaria impiegando dispositivi medici e farmaci sottratti all'azienda ospedaliera che venivano in tal modo autoreciclati e si sarebbe avvalso di farse fatture emesse dall'imprenditore per giustificare il loro utilizzo all'azienda ospedaliera. Nell'indagine che non si è ancora conclusa risultano indagate altre tre persone per favoreggiamento personale o reale. Inoltre è stata data esecuzione al sequestro preventivo di due immobili nella disponibilità di uno degli indagati.